Oggi 25 dicembre 2022, Natività di Nosso Signore, Maria Regina della Pace, ci ha donato questo messaggio attraverso la Vergine Maria di Međugorje. Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, perché siate la sua pace e il riflesso della serenità e gioia del cielo. Pregate, figlioli, perché siate aperti ad accogliere la pace, perché molti cuori sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori. Sono con voi e prego per voi affinché vi apriate ad accogliere il Re della Pace che colma i vostri cuori di calore e benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Rispondiamo alla chiamata di nostra Madre vivendo i messaggi che l'Altissimo permette ancora che lei ci doni per la nostra salvezza. Grazie. Grazie. Grazie.